Il cuore questa volta non è bastato. L'Unieuro Forlì è caduta sconfitta nella decisiva gara 5 del Palamangano e dovrà così giocarsi le restive speranze di salvezza nella serie contro Chieti e, ancora una volta, senza il vantaggio del fattore campo. La squadra di coach Valli esce comunque a testa alta anche dall'ultimo atto dell'incrocio contro Scafati, al termine di 40 minuti di rara intensità. Una lotta punto a punto in cui i biancorossi hanno anche comandato le operazioni per lunghi tratti, col tridente Johnson, Amoroso e a Degboje, a rendere pan per focaccia ad un Neimi semplicemente immarcabile. Forlì prova a scappare via ad inizio terzo quarto, volando fino al massimo vantaggio di più 5, senza però azzannare alla giugolare la partita e, nell'ultimo periodo, è il play israeliano a mettersi in proprio. Dalle sue mani sgorgano abbondanti assist, ma soprattutto punti, ben 28 a fine gara e, lentamente ma inesorabilmente, la partita scivola tra le braccia della Givova fino al 91-86 finale. Forlì tornerà così in campo domenica sera al Palatricalle e sarà l'inizio di una nuova storia, un bivio che deciderà in maniera chiara ed inequivocabile il destino della pallacanestro 2.015. Qui cifra la diretta